Drago! Ehi, Drago, Drago, Drago! C'è il tuo pranzo preferito! Una torta di Kobi appena sfornata! Ehi! Seguiamo quel cespuglio! Re maialino, perché ti nascondi in quel cespuglio? Pensavo che voi foste un drago spaventoso! Ogni volta che mi avvicino al mio castello, lui ruggisce contro di me! Noi stiamo solo cercando un drago! Eccellente! Per favore, quando lo trovate, fatelo scappare lontano! Un attimo! Tu vuoi che noi cacciamo via il drago? Seguite alla lettera quello che dice questo libro! Tutto quello che c'è da sapere sui grandi draghi spaventosi è racchiuso proprio qui dentro! Mentre siete occupati a cacciare il drago, mi nascondo dietro a questo albero! Certamente! Tenendo un atteggiamento reale, sì! Sofì, inizia a leggere! Sì! Divertitevi a leggere e a cacciare il drago! Che cosa c'è scritto nel libro? Fatemi vedere! Sì! Allora, c'è scritto che... I draghi hanno tanta paura dei... Dei ragni! I draghi hanno tanta paura dei ragni! Ma se l'hai letto in quel libro, allora deve essere vero! È ora di spaventare il drago! Eccolo laggiù! Sì, è solo un ragnetto! Stai provando a spaventarmi, ragnetto? Perché un ragnetto non fa paura ad un drago grande e temibile come me! Era ora di spaventare il drago, invece è diventato e è ora di spaventare Eddie! Ha 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 ha! Ha 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 ha!